40 anni fa l'Italia decise di fare un grande balzo in avanti. Con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale iniziò una nuova aerea e infatti l'Italia, secondo molti, ha uno dei servizi sanitari migliori del mondo. Ma c'è un grande ma. Non tutti hanno lo stesso livello di prestazioni, quindi ci sono grandi disuguaglianze. È il momento di fare un nuovo salto in avanti. Per questo sostengo la campagna di cittadinanza attiva per inserire un riferimento nell'articolo 117 della Costituzione all'uguaglianza dei diritti alla salute. E tra l'altro uno dei temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in cui tutto il mondo si sta impegnando. Ecco perché bisogna sostenere questa campagna e far sì che la prossima legislatura sia la legislatura dello sviluppo sostenibile anche in campo della salute.